Le palestre tornano a chiudere i battenti con il nuovo DPCM del governo per affrontare la seconda ondata di contagi da coronavirus. Abbiamo fatto tanti sacrifici dopo il primo lockdown per rispettare l'enorme anticontagio, ma a nulla è servito. E questa la rabbia di Nino Schettini, uno dei gestori della Fitness Evolution di Bitonto. Noi ci sentiamo presi in giro, presi in giro perché alla riapertura tantissimi di noi, io posso dire la totalità di noi, per non incappare in qualsiasi tipo di problematica si è adeguato, naturalmente in base anche alle strutture che uno aveva a disposizione. E si è adeguato per fare il meglio e il bene dei nostri clienti, rinunciando ad una parte di loro che non volevano praticamente adeguarsi alle regole. Abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare e si poteva fare. Ci hanno fatto riaprire solo per colmare i debiti che si sono creati durante il primo lockdown. Adesso che forse qualcuno cominciava a respirare ci chiudono da capo. Forse questo per lo Stato non è un settore importante. 800 euro di indennità, 50 milioni di fondo perduto per ASD e SSD da erogare entro novembre. Oltre il fondo perduto per le società sportive dilettantistiche. Sono questi gli aiuti economici previsti dal ministro Vincenzo Spadafora per il settore sportivo, nella speranza che siano sufficienti per superare questo secondo stop delle attività. La realtà come denuncia Nino è però ben diversa. Noi chiediamo al governo, una volta tanto, di essere sincero e di rispettare quello che ci hanno promesso. Perché contributi non ne sono arrivati. I nostri collaboratori sono senza far nulla da mesi ormai. E questo è un settore che, alla riapertura di questo secondo lockdown, vedrà sicuramente più del 50% delle attività soccombere. E il termine esatto è soccombere. Perché non avranno aiuti da nessuno. Non sono proprio positive allora le prospettive di ripresa. Ma non si può fare altro che pensare a un modo alternativo per mantenere il contatto con i tesserati e permettere loro di continuare a praticare sport. Noi dal mese prossimo pensiamo di organizzarci con delle lezioni online. Ovvero per continuare a fare gruppo, cercheremo di coinvolgere più persone possibili in alcune ore della giornata, consone per tutti, per farli muovere anche da casa con quello che hanno. Ma soprattutto a corpo libero. Però, naturalmente è chiara che la paura dei clienti è tanta. E la voglia comunque di allenarsi, voglio dire, se non ci sono gli stimoli giusti può scemare. Quindi questo lockdown può portare ad un esaurimento psico-fisico delle persone che non accedono più alle nostre strutture. Faremo di tutto per cercare di essere anche noi vicini a loro. Lo sport è la prima fonte di benessere psico-fisico, per cui l'appello ai tesserati è quello di non rinunciarci. Noi gli chiediamo solo di aspettare e, quando ce lo concederanno, di venire a fare quello che facevano normalmente e di non avere paura perché le palestre sono un luogo sicuro.